ciao a tutti benvenuti a questo gameplay è rimasto che ieri avevo affrontato le prime due missioni e mi ero fermato lì quindi adesso proseguo allora qui ragazzi per sbaglio ho parlato con lui e volevo vedere appunto se avevo veramente il mio compagno in squadra e vabbè adesso vediamo cosa mi dice in pratica ho tirato lo set pass forse in arrivo e in pratica mi ha detto che volendo appunto posso dare i miei compagni ad altri cacciatori vediamo cosa la tipa qua eh già no non direi proprio già già bella questa ho già avuto a che fare ma questo sarebbe un due a che fare ma la farsa no 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 consegna un fungo scelta 5 fiume speciali ok un fungo scelta 5 fiume speciali siamo apachi ehi la apachi non piace la verte qui andiamo e vai però adesso vedo la mappa completa di questo livello fantastico livello direi interessante mi ero arrivato fino alla parte parte 6 mi pare avevo fatto la prima la terza l'ottava e la sesta mi pare per di qua se non ricordo male vabbè il bello adesso vediamo un po cosa c'è qua ho già trovato un fungo fungo blu parchi mi raccomandami la mano eh qua posso andare non ho aria apri tre notte e se vieni parcia qua scadono no peccato che figo tanta roba qua chi c'è qua i maledetti gatti che odio i maledetti gatti che odio non è poco risultare ma come vi permettete grazie di grazie no fungo scelto l'ho già trovato fungo speciale ok ma ma sei tu madonna santa non bella questa non so anche a me tutto qua vabbè io trovo figo questi posti che hanno queste reti qua specie di reti qua sono veramente troppo figli però vediamo un po' cosa c'è qua ma ma c'è un altro gatto quella malefica ok gattina o malefica ho sottratto tutti così imparate con le scatole e madonna ancora va lascia stare il mio parche non ne hai il diritto grazie bene basta per il tempo qua sono stato dato fuori a sudare a nuovo che figata scalare in questa maniera è veramente troppo figo ma allora che figata ragazzi è troppo figo allora qui c'è un'erba non mi dire che sto nati su vera ma sei sempre tu non è certo che ma non posso andare allora setto speciale solo uno c'è fungo speciale scusate ne mancano quattro e vai sopra la rete no non volevo scendere mannaia qui c'è qualcosa no tutta velocità scalare troppo troppo figa ma cos'è un nido eh sì interessante non è quell'insetto malefico ok siccome so che qua che cavolo c'è qua ma che figo cos'è un fiore bacca luce di bacca interessante ottimo andiamo per di qua che mi mancano ho trovato i quattro funghi scelti questo non è un fungo adesso le trovate poco fa e io preferisco lasciare bello pianta dell'infa allora io ragazzi me ne andrei all'otto se mi pare che sia nel punto otto il funghi dai vati calbi certo non è che sia un po' su ah guardate che ci sono qua e come cavolo si chiamano sti qua i cammini mi approfitto allora ma chi raccoglie raccoglie bello che si raccogliano anche più unità su un colpo solo bella cosa il problema è guardato ben poco allora andiamo prima i ragazzi ma che versi fate però andate qua ecco qua i funghi depressivo alla faccia fungo speciale fanno due fanno tre fanno quattro io ne devo consegnare oddio dov'è la missione 5 appunto il fuoco blu a massimo non mi interessa e vai ottimo ragazzi bene posso tornare indietro una scala così una figata andiamo apache su abbiamo completato la missione aff a a a a A presto. 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 No, per il momento no, vado, non so che tipa, non so anche me, esatto, che! ... Oh... 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 Oh-ho... Allora ragazzi, io voglio proprio vedere, oh mio dio, ma cos'è un millepiedi? Aiutatemi Ai 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 Che dita ragazzi, salvo? Vabbè, essendo grado 2 spero sia facile, soprattutto spero di non fare una brutta fine Sì, grosso Ah cavolo, questo me l'aveva dimenticato Allora Aumento la mia resistenza La metto con su, un po' mi preoccupa Allora, io vado subito al punto Cambio anche strada E vediamo che mi aspetta Sprevo bene Sprevo bene montaggio Che figata ragazzi Eh si, la sedui in pace, porca miseria Diove sarà sto consue? Figata trattato troppo figo medico ma se io vorrei andare di guadagnare in alto e dopo ma io non vedo sto essere ci sarà una sequenza un video non mi farà capire chi è sto consul nada consul qua qua come arrivo l'arampico no perché arriva lassù vabbè ragazzi non so come arriva lassù questa zona già più pericolosa aiuto che volo ragazzi ma che figo ma ragazzi io sto concio ma ma porca miseria ma chi dovrebbe essere sto concio se vino lo trovo ragazzi non lo vedo non voglio da qua provo a andare al numero 7 ecco ragazzi alla faccia ma quanti cavolo sono e quindi io preoccuparmi di chissà che razza del nemico ma d'affan brodo fatemi raccoglio sto essere non capito il trucco è colpirli dopo che sono lì fora ma va in cina cattiva ma che cavolo stai a dire si va per tre quarti cinque rimasti ne ho così tanti alla faccia ma va in cina cattiva ok ok ragazzi ne mancano tre dove sarebbero i signorinelli allora vediamo un po sbrigata per andare di qua vediamo se saltano fuori sti concio maledetti mi aspettavo chissà che creature vabbè meno male eccole qua tutto che arriva perchè sto suono ti permette di fare male a pachi non so lasciami copparlo ah non avevo butti io secondo me perfetto bravo pachi non ero fin preoccupato per niente non so 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 guarda pachi cosa fa non so ahahah si una cassa oggetti prezzo concio setta mano una filata prezzo concio ferro setta mano ferro ok anche massa bene ragazzi questo è che poi fisso qui e c'è alla prossima ciao a tutti grazie 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 grazie